Un arrosticino lungo 10 metri per il Guinness dei primati qui a Civitella Casanova in piazza. Ci troviamo con il sindaco Marco D'Andrea. Oggi è davvero una bella giornata di festa. Una giornata importantissima dove noi ci teniamo a ribadire questo record per un prodotto tipico che rappresenta la nostra storia culinaria e la nostra tradizione che stiamo riscoprendo grazie all'attività dei numerosi operatori del settore che si stanno impegnando per questa cosa. C'è grande euforia, c'è grande entusiasmo, tanta gente. Sindaco, bisognerebbe organizzare più di una semplice manifestazione del genere? È vero perché come dicevo già prima è la nostra storia quindi noi ci teniamo a farla praticamente conoscere in tutto il mondo e a valorizzare questo prodotto tipico. Ci stiamo impegnando anche a livello locale con l'attuale Prologo, con tutti gli operatori e con l'amministrazione comunale di Civitella Casanova. Con il Guinness dei primati della Rossicino più grande del mondo si chiude anche una stagione estiva. Com'è stata sindaco? Quest'estate è veramente stato un pochino sotto tono per i grandi problemi che abbiamo avuto in questa comunità. Comunque la forza non ci manca e questo è un punto fermo da cui ripartire per rilanciare ancora di più i nostri prodotti e il nostro territorio. Comunque la forza non ci manca e questo è un punto fermo da cui ripartire per rilanciare ancora di più. Comunque la forza non ci manca e questo è un punto fermo da cui ripartire per rilanciare ancora di più.